Un momento importante perché anche in un territorio come quello abruzzese, in particolar modo nella città di Pescara, credo che continuare a parlare anche con gli interlocutori del territorio, con tutte le parti sociali, con gli imprenditori e con le associazioni di un punto importante che può rappresentare lo sviluppo anche di questo territorio, come il turismo, è un dato che non dobbiamo ovviamente sottovalutare. La condizione di questi anni, in particolar modo del 2015, con un boom allarmante dell'utilizzo ad esempio dei voucher, dà la misura di come è ancora importante invece concentrarsi sulla idea di qualità del lavoro e di quale reale prospettiva di non precarietà possa essere data anche nel settore turismo e non solo ai tanti giovani e meno giovani. In questa giornata qui al Marina di Pescara c'è anche la possibilità di firmare per i tre referendum abrogativi sul lavoro? Soprattutto è importante perché questi tre referendum sono a supporto della Carta Universale dei Diritti, quindi una proposta di legge con cui rimettiamo al centro il lavoro e la qualità del lavoro e dove crediamo che per i cambiamenti che sono intervenuti nel mondo del lavoro negli ultimi decenni c'è bisogno di ricostruire un reticolato di tutele di diritti universali che valgano innanzitutto per le persone, a prescindere dal tipo di rapporto di lavoro che queste persone hanno.